Signori, voglio darvi il benven... Oh, forse aspetta, la voce è bella... Signori, vi do il benvenuto in Among Us, versione Harry Potter. Io sono Voldemort. Ah, vado a cadavra! Oddio, scusate, mi è partito il dito. Ma che palle! C'era Albus e un altro colore che non mi ricordo, perché era passato tipo vicino alla cosa della benzina e non si è visto bene il colore. Mentre tornavo indietro per seguirli, ho trovato il cadavere in Electrical. Per me è Draco. Allora, io vorrei fare una domanda. Dobby, tu che cosa stavi facendo qui? Dobby è un elfo libero! Non sapevo che Dobby fosse te. Dobby stava cercando di trovare il suo padrone Harry, ma non l'ha mai trovato e perciò se n'è andato via da solo. E lo cercavi qua dentro a Mad Bay sulle fialette? Sì, lo stavo cercando. Stai facendo la task, Dobby? Sì, mi sono scansionato. Non si dice così. Beh, va bene, dai, ok. Si dice scannerizzato. Avada cadavra! Perché non muo? Scusami, shampoo, tu chi è che sei? Sono Voldemort. Bazzardo maledetto, Voldemort sono io. Non mi stavo per ammortare. Ermione, Ermione. Ermione, Ermione. Ermione, Ermione. No, Ermione con la E. No, raga, scusatemi. No, ragazzi, Ermione con la E no. No. Via. Non ho già fatto caso adesso perché mi copriva il cappello. Raga, mi prego. Via, Ermione, adesso. No, raga, faccia in serio, raga. No, dai, dai. Sicuramente sei già fuori. Ermione. Vai, fai un ingarno in leviosa nello spazio, vai. Vignano in leviosa. È l'unico che ha schippato. Il prossimo sarà Harry Potter. Ti distruggerò. Maledetto. Ma che poi non mi ricordo bene com'è che parla... Come parla Voldemort, se devo essere sincero, eh. Però il prossimo sarà Harry Potter. Solo questa cosa mi ricordo. E poi manco tanto che me la ricordo. Mi dispiace che purtroppo... Albus ho capito che è Hector. Anzi, era Hector. Ehi. Ciao, bella Trix. Ah, però se guardo le telecamere il cooldown non... Non si resetta. Vado qui a fixare le luci. Ah, le hanno fixate. Ok. Hagrid sta facendo la cosa? Mamma mia, come l'ho seccato Hagrid. C'è nessuno qui? Ok. Mi metto qui sopra, così faccio come se stessi facendo lo scanner. E se dovesse entrare qualcuno, magari sto tranquillo. Ho trovato il cadavere di Hagrid davanti alle porti di security. No, Hagrid! Meschino Hagrid! Io ero in admin con Harry e un altro. C'era in admin. Che non mi ricordo chi era. L'ultimo che ho visto con Hagrid, che è stato pochi secondi fa, è proprio Draco, ragazzi. Esatto, bravo, perché io in electrical c'erano Hagrid e Draco in electrical. Esatto, che sono... E poi io... Esatto. Cosa dire di aver riacceso le luci e di essere andato totalmente a destra della mappa? Allora, io concordo. Ho visto Draco. L'ho visto io, Draco. E ha fixato lui le luci. E io poi stavo facendo le tasche qui a electrical. Poi però non sono sicuro. Non posso trastarlo sul fatto che sia andato a sinistra oppure a destra. Questo non l'ho visto. Lui è uscito, è andato prima a sinistra insieme ad Hagrid e poi se n'è andato a tutta a destra. E Hagrid è salito. Ed Hagrid è schioppato. Ma scusa, io l'ho passato ad Admi. L'ho passato ad Admi. L'ho passato a Draco. Comunque è incredibile come ti venga bene fare Dobby e tec, eh. Cioè, questa cosa va detta. Grazie, Dobby è contento. Però ti sembra quasi che sia stitico sto Dobby. Capito perché parla così? Si sta spremendo. Io non ho chillato nessuno. E nessuno può dire che io ho chillato. Eh, va bene, ok. Va bene, no. No, raga, non possiamo schippare. Io non mi schippo. Perché allora Albus è stato ucciso. Hagrid pure. Hermione è stata fatta fuori per una questione di nome. Quindi sono ancora due impostori. Dobbiamo votare per forza qualcuno. Dobby vi assicuro che il padroncino Harry è rimasto tutto il tempo con Dobby. Io vi assicuro che Dobby si è prestato con il suo padroncino. Sono passato. Esatto, io Python lo... Scusa, 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 spesso, chi sta parlando? Python! Python! È che ha detto Python! È Python? Io no. È Python? Python! Che cos'è? Python! Che sta volando? È stato bello. È stato bello. Molto bene, bene, bene così. Allora, io adesso mi metterò qui, facendo finta che sto guardando. Abbiamo Sirius Black, che ovviamente è black. Qui sotto non ci sono telecamere. Non c'è nemmeno nessuno. Oh, ma becca d'orra! È Sirius. Sotto la polvere? Aia! Aiaiaiaiaiaiai. Come sotto? Ragazzi, ce l'abbiamo. Vai. Abbiamo il primo impostore al 100%. Vai. Perché, allora, io ho visto, e non sto dicendo che è Dobby, ma Dobby mi ha visto andare verso sinistra. Dobby scendeva verso il basso. Quindi, né io né Dobby possiamo essere. Al che, se Dobby mi dice che Harry è safe, ed è sicuro che Harry è safe, io direi che uno tra Python e Bellatrix sono gli impostori. Al che vi dico che quando io ero in security, qualche round fa, Bellatrix mi è stato un po' che è stato tutto il tempo girare intorno. Non ti vedevo, perché io vedevo le camme accese e non vedevo nessuno. Non capivo perché, giuro. Ah, ok. Non vedevo nessuno. Vedevo le camme accese e dicevo, scusa, come sono accese? Quindi tu comunque confermi che stavi lì a girarmi intorno. Sì, perché non vedevo nessuno e ero dentro. Ok, quindi non è nulla di inventato. Perfetto. Esatto, esatto, esatto. Perfetto. Dobby conferma che Harry è un mago buono. E se qualcuno di voi dovesse per caso dirli qualcosa, divento Sméagol. Non capisco la connessione tra i due. Mi verrebbe sinceramente da forse o schippare e aspettare. Però, raga, se sono ancora due impostori è finita. Io farei una... E io non sono. Ma come si dice, un tetto magico, no? Allora, vabbè, comunque io ho votato Python. Eh? Meschino Python. Giallo, vai via. Io ho votato Bell. Io ho votato Python. Io ho Python. Perché voglio trastare Bellatrix, ma se perdiamo è finita, raga. Cioè, se abbiamo sbagliato e non è Python, abbiamo perso. Mi dispiace, Python. Mi dispiace, amico mio. Li abbasso tutti. Appena entra qualcuno... Ok. Perfetto. Sì, ma come faccio io se Dobby e Harry stanno insieme? Porca vacca. Devo isolarli in qualche modo. Devo fare in modo che Dobby e Harry... E devo farli fuori per forza uno tra Dobby e Harry. Perché se loro due si trastano e muore Bellatrix, automaticamente danno la colpa a me. Ok, Bellatrix è qui. E sta guardando... Sta guardando. Harry è entrato di qua. Bellatrix però sa che io sono... Che io ero in questa zona, quindi devo per forza cercare Dobby. Speriamo che venga uno tra Dobby... O Harry, raga. È arrivato Harry. Perfetto. Eh... Niente, io... Dobby ha paura! Io non ho visto niente, non so... Io ero in admin, entro in Electrical Report. A me l'unica cosa che mi viene pensato è che fino ad ora Dobby abbia fatto una specie di doppio gioco con Harry. Padroncino Harry è morto! Non so se è una risata o un pianto di disperazione in realtà, eh. Dobby! Esatto, esatto. Ritorna nella casata dei Malfoy! Perché potrei trassare sulla cosa che Voldemort sia safe, perché era con Harry prima, e c'ero pure io, è stato parecchio tempo, poi se ne sono andati separati, e poi dopo un po' ero in admin, c'era Dobby che scattano le luci, e se ne è andato Harry e poi è morto. Bugiardo! Sei un bugiardo? Dobby adesso è diventato seppi? Bugiarda! Per me c'è il c***o. Ma cosa sta succedendo? È tutto sulle spalle di Dobby! Guarda Dobby, voglio consegnarti questo. È un calzino. Dobby is free. Dobby è un elfo libero! Sì, libero per lo spazio, però. Dobby è diventato seppi? Seppi! Vola, vola! Ciao Dobby! Ciao, puoi votare! Hai due voti, hai due sì! Ricordati, Harry! Sarai sempre nel mio cuore! Ragazzi, allora, ho fatto probabilmente una delle giocate più, più belle. Cioè, questa penso che sia una delle... Eh, adesso ti ignorano tanti, cavolo, ma che? Ma da, ma come vi siete fatti battere! Oh, ma tu stavi a girare alla cavolo. Che puoi Dobby! Ma vi ho detto che sono sempre stato con Harry! Porca miseria! Harry! Harry muore! Dobby! Quindi? Effettivamente è questa la cosa che ci ha fatto molto sospettare. Ti ringrazio, Tumbe, per avermi fatto giocare. È stato bello partecipare. Eh, fra, io in quel momento, sai che mi è proprio venuto dal cuore? Vado al cadavra! Vado al cadavra!